Certe parole, dette con superficialità, possono diventare pesanti come macini. In questi giorni devo dire che ho osservato in credula come tanti ciò che sta accadendo. Perché? Perché le donne vengono ancora vestite come degli oggetti da possedere. Ecco, in un momento storico importante come questo, secondo me sarebbe stato veramente bello vedere che un appuntamento mediatico così importante come il Festival di Sanremo avesse una particolare sensibilità per questo tema, no? E invece no. Cioè, quello che dovrebbe essere naturale, per chi ha in mano il Festival della canzone italiana, evidentemente non lo è. Vabbè, dai, c'è molta strada ancora da fare per invertire questa cultura viziosa e maschilista in una cultura virtuosa e paritetica e soprattutto che diventi normalità.